qui, perché diciamo viene da pensare che stiamo rischiando e non poco con il Consiglio europeo, alla fine che succede? Si affonda tutti, mi dica intanto in un titolo come la pensa perché poi le faccio vedere una cosa. Mi pare che l'Europa sia stata colpita e affondata perché il principio per cui chi sbarca in Italia necessariamente deve rimanere in Italia perché è il porto di primo approdo con la vicenda della Lifeline che è sbarcata, i porti sono stati chiusi, è sbarcata Malta, i migranti sono stati distribuiti in otto paesi, si è capito che quel trattato di Dublino non può stare in piedi e quindi bisogna ridiscutere in termini. Colpita e affondata è l'Europa.